Erano stipati in un piccolo appartamento ricoperto di escrementi a terra e sulle pareti detenuti in maniera allarmante. A salvare 11 cani è stata la polizia municipale di Arezzo. Si è fatto un intervento a seguito di una segnalazione di alcuni vicini in via Libia su appartamenti delle case popolari in cui si è trovato alcuni residui di animali all'interno di questo appartamento in cui era presente una cittadina agli arresti domiciliari. Nell'appartamento di circa 50 metri quadrati, gli agenti della municipale e il personale del servizio veterinario dell'ASL hanno trovato due cagnoline di razza meticcia, un maschio tipo pitbull, oltre ad 8 cuccioli di circa 20 giorni in condizioni igieniche allarmanti e di salute estremamente precarie. Con condizioni molto difficili. L'appartamento era infatti ricoperto di deiezioni sia sul pavimento che sulle pareti e caratterizzato da un pungente odore di ammoniaca e di materiali in decomposizione. Gli agenti hanno anche dovuto far intervenire gli ispettori dell'ufficio gene pubblica dell'ASL a Toscana Sud-Est e richiedere al sindaco di Arezzo un'ordinanza contingibile ed urgente in materia di salute e di igiene pubblica per la bonifica dell'appartamento. La proprietaria degli animali non è stata in grado di spiegare la grave situazione e vista l'inagibilità dell'abitazione è stata ricollocata in un altro luogo adeguato. È stata comunque denunciata per maltrattamento e abbandono gli animali. I cuccioli e i cagnadulti sono stati sequestrati e portati in una struttura idonea dove riceveranno le cure del caso. L'impegno della Polizia Municipale diventa sempre maggiore in questo ambito. C'è anche un nucleo dedicato alla tutela degli animali? Sì, visto la situazione, visto i numerosi casi, il nucleo è stato ampliato. È stato portato da due a quattro unità.